Siamo qui di fronte con alle tue spalle tante di quelle fotografie, la passione per la fotografia è una passione che ti ha coinvolto? Sì sicuramente, anche perché questo è un nuovo modo appunto di apprendere, un modo diciamo diverso rispetto a quello tradizionale che sicuramente aiuta molto anche i ragazzi della mia età a imparare in modo diverso e magari anche divertendosi, scattando delle fotografie. Come hai scelto cosa scattare, che cosa ha attirato la tua attenzione? Diciamo che ogni ragazzo ha un suo obiettivo, vede il paesaggio in modo diverso, quindi ognuno scatta cose diverse rispetto a un altro. E appunto io mi sono focalizzato sugli aspetti del mare, sui personaggi, i frutti del mare appunto come potrebbe essere un pesce, un qualcosa di pescato o comunque un semplice piatto sempre con i frutti del mare come ingrediente principale. Il mare è la tua passione? Sì sicuramente, è stato sicuramente il tema principale di questa mostra fotografica. Federica tu hai realizzato delle foto per questa mostra, la tua è una passione per il mare? Sì, la mia è una passione da quando ero piccola, anche perché io pratico pesca subacqua in apnea, sto anche facendo un corso di immersione con le bombole, quindi la passione del mare l'ho sempre avuta. Diciamo che me l'ha anche trasmessa mio padre perché sono sempre andata con lui a mare, a pescare. Diciamo che la fotografia è stata un'occasione per vedere il mare da un altro punto di vista, con un occhio diverso, quindi ho voluto approfittarne per imparare cose nuove anche, quindi appunto la fotografia è anche un'altra delle tante passioni che ho. Allora, e dalle tue foto che cosa hai fatto emergere? Diciamo che il mare non viene sempre visto come dovrebbe, quindi secondo me scattare queste foto è stato anche un modo per far vedere oltre il mare, secondo me, quindi anche cosa c'è dietro tutto ciò, quindi anche il lavoro, quindi la pesca, gli sport. Diciamo che ho voluto far vedere a chi non ha mai visto il mare con i miei occhi.